bene signori e signori siamo giunti qui a Gorizia abbiamo appena terminato il corso del massaggio neonatale se volete sapere questo corso come andate seguite il video fino alla fine noi vi salutiamo da Stefani Michino, Alessia Zegotti, Dalillo e da tutte le ragazze ragazzi salutate ciao massaggio neonatale brava Francesca, brava e l'onora grande Elisa anche l'altra Elisa brava venite Elisa come nel movimento papà a testare il tuo corpo a testare il tuo corpo alla morte a testare il tuo corpo 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 bravi 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 volete attraverso il tuo corpo un po' nello stesso cuore a testare il tuo corpo ancora mi piace poi con la testare il tuo corpo mescolare Grazie a tutti.